Un pensiero speciale, ma poi ai vari gruppi parrocchiali, in particolare al comitato con un festo della Madonna della Libera. Un bravo di parola. Il comitato vesteggiamenti della Madonna della Libera di Pratola Peligna in udienza da Santo Padre Francesco. Questa mattina alla Sala Nervi il gruppo ha partecipato alla tradizionale udienza del mercoledì. Al termine vicepresidente, Raimondo Nesta ha consegnato a Bergoglio il calendario del comitato festa. Santità, il calendario della Madonna della Libera le volevo dare. Santità, puoi fare un saluto alla comunità di Pratola? Il calendario della Madonna della Libera. Io sono il vicepresidente. Grazie, Santità. Tanti auguri. Il gruppo si è regato con il presidente Katia Puglielli. Un momento unico che non ha precedenti storici. Il comitato direttamente ricevuto dal Papa.